Nella suggestione della notte incomincia il viaggio, una traversata alla scoperta delle atmosfere più caratteristiche in giro per il mondo, laddove l'inconscio, affondato nella struttura del pensiero, svela la sua presenza vivente solo attraverso la mediazione della fantasia creatrice. Esso si anima nell'uomo dotato di facoltà creative, si rivela nella visione dell'artista, nell'ispirazione del pensatore, nei suoni dell'esecutore, nell'intima esperienza del mistico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.